All'Aquila per tre giorni Paola Guerra che ha creato dopo il terremoto del capoluogo il centro di studi consulenza scuola internazionale etica e sicurezza. Più di 70 manager in città ai vertici della sicurezza di alcune delle più importanti aziende italiane e internazionali. L'attività di Paola Guerra è partita proprio dall'Aquila dal 2009. Da quell'esperienza è nato il centro studi con l'obiettivo di applicare le procedure delle grandi emergenze a tutti i settori della sicurezza pubblica e privata. Siamo partiti ieri con una simulazione d'emergenza perché uno dei fondamenti della gestione della crisi è essere preparati ed essere pronti. Per farlo bisogna simulare, esercitarsi, provare. Questo non lo fa quasi nessuno e quindi questo è il primo punto è questo. Oggi tutta la giornata è dedicata a lezioni sulla crisi e sull'emergenza, quindi anche con le istituzioni ma con le aziende che si confronteranno. E domani andremo a riflettere su un punto o altro che in Italia non fa nessuno che è cosa abbiamo imparato dopo una crisi. Per fare in modo che ogni crisi per una persona, per una famiglia, per un'azienda diventi un'opportunità di crescita. Un aspetto essenziale che noi abbiamo imparato qui e io sono molto grata all'Aquila per questo insegnamento è mettere al centro le persone. Quindi abbiamo con noi psicologi per i popoli Toscana e Abruzzo e con loro riflettiamo su le persone quando succede qualcosa di critico e dopo. L'Aquila rimane un modello, un grande esempio per il settore della sicurezza. Una tre giorni molto ricca con simulazioni e lezioni teoriche perché è importante guardare anche oltre e non solo durante. Si parla delle città o delle popolazioni durante un'emergenza grave e poi non si sa più niente. Io credo che tenere accesi i riflettori, ognuno come può, su una città possa diventare un impegno morale. L'Aquila, modello L'Aquila, io so che L'Aquila è l'unica città di questo millennio che è stata ricostruita da zero. Quindi che non sia tutto finito mi sembra del tutto normale. Nelle emergenze internazionali l'esperienza ci insegna che ci vogliono vent'anni per ricostruire una città e poi così complessa e piena d'arte. Ogni anno che vengo, ogni momento che vengo vedo una L'Aquila che rimette un tassello, rifà un passo avanti. Io credo che non siano le grandi gesta ma i piccoli passi che ogni aquilano, ogni aquilana sta facendo.